allora ciao eccoci qua vediamo un pochettino spieghiamo un po come si allinea il cercatore del telescopio il cercatore che cos'è cercatore è una sorta di mirino quindi che aiuta a trovare gli oggetti che vuoi osservare con il mio telescopio per una per un corretto allineamento ecco scusatemi si fa in questo modo qua allora cosa devo fare per prima cosa individuo un oggetto lontano che sia terrestre quindi di giorno che sia terrestre che sia lontano preferibile un campanile un albero un lampione un qualcosa di non molto grande ma che sia abbastanza individuabile poi cosa si fa una volta che individuo quello che io voglio osservare quindi a livello terrestre lo metto il diciamo l'oculare e guardo e vede se quell'oggetto che ho individuato e al centro dell'oculare altrimenti porto quell'oggetto al centro dell'oculare muovendo il telescopio quando è al centro guardo nel cercatore ora il cercatore può avere un reticolo a croce quindi muovendo le vitine porto quell'oggetto che vedo nel cercatore al centro del reticolo oppure posso tranquillamente se a punto rosso quindi che fa un puntino rosso il cercatore porto quel puntino su quell'oggetto che sto osservando quindi di controllo che sempre sia tutto centro centro quindi al centro del cercatore e al centro dell'oculare osservo fatto questo vuol dire che la prima fase di allineamento cercatore telescopio è fatta poi se voglio perfezionare cosa faccio allora io consiglio questa cosa qui si parte con un oculare a bassi ingrandimenti quindi l'oculare quello dove la lente dove io guardo guardo quindi prendo l'oculare con il numero più grande che mi dà bassi ingrandimenti quindi mi dà una buona porzione di campo quando centrato centro centro cercatore e centro nel telescopio quindi nell'oculare poi aumento gli ingrandimenti e rifaccio la stessa cosa così ad altri ingrandimenti quanto più ingrandisco più è preciso questo allineamento più gli oggetti che dopo voglio trovare in cielo quindi una stella un pianeta che sono più puntiformi più piccoli riuscirò a trovarli al centro dell'oculare nel campo dell'oculare quindi punto con il cercatore osservo ok al centro oppure nel campo del cercatore quando più vicino al centro vado a guardare nell'oculare me lo ritroverò nel campo dell'oculare un altro consiglio che vi do quando fate questa cosa di notte io vi consiglio anche di ripartire sempre da un oculare basso così partite da un oculare a bassi ingrandimenti e poi dopo trovato l'oggetto individuato quello che volete osservare ve lo riportate poi aumentare gli ingrandimenti nel senso che l'oculare da 40 mm passa 32 25 vieni faccia scaletta e ingrandite sempre di più fino a che non avete l'immagine o il risultato che vi soddisfa di più a livello visivo questo è in parole povere in parole semplici l'allineamento del cercatore seguitemi per il prossimo consiglio ciao